Dei congestionare i pronto soccorso, garantire l'assistenza sociosanitaria e domiciliare integrata, riequilibrare il rapporto pubblico-privato del servizio sanitario, sono questi alcuni dei punti salienti del referendum lanciato dalla CISL Campania e dalla FP CISL per cambiare il sistema sanitario regionale. Abbiamo un congestionamento dei pronto soccorso e degli ospedali perché l'assenza della medicina territoriale ha fatto la differenza in negativo. Oggi con i fondi del PNRR occorre rimodulare e ridisegnare il disegno di modello di sanità in Campania. Un'esigenza che secondo la CISL è diventata assolutamente prioritaria e per la quale è necessaria la cooperazione da parte di tutte le componenti. Il governatore sostiene che abbiamo bisogno di norme più flessibili per reclutare il personale e di risorse economiche, noi diciamo che così è. Dall'altro però non bisogna avere un atteggiamento di chiusura perché la politica richiede assolutamente dialogo. Ma per il sindacato è necessario sfruttare a dovere anche i fondi del PNRR. La Campania deve fare la sua parte perché è impensabile che non centri gli obiettivi e che non spenda bene le risorse del PNRR. Le istituzioni non possono non tener conto che non è un piano che può essere portato avanti da uomini o donne sole al comando.